ti ha visto è venuta lì proprio aplanato il tanto che tu saltavi ha detto voi lo prende per il casco cazzo è andata a poggiarsi basta proprio intanto che dovevi fatto il coso lei arrivava qui però ma lei è già pronta il cadavere come come no non ho capito e di là non mi piace neanche un po bravo il salto del gatto bravo Grazie a tutti. 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 Per me si incuzza con la pedivella sull'altro tronco. E' quello che non mi piace. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.